Ha cercato di estorcere soldi al padre, ma davanti al rifiuto del genitore ha impugnato un'accetta tentando di ucciderlo. Sarebbe potuta finire in tragedia di una violenta lite familiare scoppiata a Minervino Murge. Vittima dell'aggressione, un uomo di 50 anni ferito tre volte con un'ascia, due alla nuca e una alla spalla, miracolosamente non in maniera mortale. A sferrare i colpi il figlio 24 anni con problemi di tossicodipendenza, subito arrestato dai carabinieri intervenuti a seguito del brutale litigio. In base alla ricostruzione fatta dai militari, il ragazzo, dal passato turbolento e alla costante ricerca di soldi per acquistare la droga, ha chiesto denaro al padre con il quale aveva un rapporto molto conflittuale. In cambio il giovane avrebbe promesso di ritirare alcune denunce sporte nei confronti del genitore, ma questo non è bastato a convincere il 50enne che non ha voluto cedere alla richiesta estorsiva. Così il 24enne ha deciso di vendicarsi facendo scattare il suo diabolico piano. Ha aspettato che l'uomo facesse rientro a casa assieme alla madre e al fratello minore. Appena il capofamiglia è sceso dalla macchina, lo ha aggredito alle spalle colpendolo tre volte con l'accetta sotto gli occhi terrorizzati degli altri familiari. Per fortuna nessuno dei fendenti ha les organi vitali. La vittima è stata trasportata ad urgenza presso l'ospedale Bonomo di Andria con una seria ferita alla testa e alla spalla, ma è stato subito dichiarato fuori pericolo. Il giovane invece, dopo il violento assalto al genitore, si è dato alla fuga che tuttavia è durata poco. Scattate immediatamente le ricerche dei carabinieri, il 24enne è stato bloccato ed arrestato e adesso si trova nel carcere di Trani. Dovrà rispondere di tentato omicidio e distorsione.